Ciao! Allora, in questi giorni sono andata da Bottega Verde, anche perché mi è arrivato via posta finalmente, perché mi arrivano sempre cose via email per comprare su internet che non mi interessano, invece questa volta mi è arrivata via posta un fogliettino con tantissimi sconti di Bottega Verde e veramente inconvenienti. Adesso vi mostro, per esempio ho preso l'olio in mandorle dolci nutrienti che vi consiglio, poi c'è scritto 17,90, ma io l'ho pagato pochissimo, adesso non ricordo, veramente poco, non così tanto. Comunque ve lo consiglio questo, perché serve per tantissime cose, io lo metto sulle unghie, come mettere lo smalto per farlo un po' riprendere, o lo metto a volte sui capelli per fare degli impacchi, c'è scritto anche sul corpo, si dicono, anche magari dopo l'acerello. E' un olio veramente molto uso, io ancora il nuovo, l'ho appena comprato, l'altro appena finito, ed è in questa goccettina qui, da 100 ml, ed è veramente buono, ve lo consiglio. Poi, la Bottega Verde, ho preso sempre con tantissimo sconto, due cose, due prodotti per i piedi, e sono lavanda, strap, piedi alla pietra pomice, qua si è scritto 9,99, ma io l'ho pagato tipo 1,50, 1,90, qualcosa del genere, perché è veramente tantissimo sconto, non l'ho ancora usato, però, ed è proprio uno scabbio, normalissimo a fare per i piedi, in questa cosa viola qua. Ecco, poi ho preso, sempre che non ho provato, l'ho provato sulla mano. Sempre per i piedi, questa crema mentolo per i piedi, effetto AIS, qua c'è scritto 11,99, ma l'ho pagata veramente pochissimo, anche questa, tipo l'altro, non so, 1 euro, 2 euro, 1 euro, 3 euro, qualcosa del genere, di certo non 10,99, sono molto felice, infatti, cioè, questa comunque può servire sempre, soprattutto in estate, quindi, quindi, l'ho presa, così, la cosa ci perdevo, per così poco, rispetto al prezzo originale, ed è una crema, che è proprio rinfresca, io l'ho provata sulle mani, vedete, proprio con un frutto rinfrescante, poi, ho provato, e ho anche comprato, lo scrub diesel, ecco, il juice, alla mela verde, anche questo, 16,90 euro, però, in realtà, l'ho pagato molto meno, e ha un profumo veramente buonissimo, guarda, mamma mia, guarda, mmm, sta di me l'ho in un modo di buonissimo, ed è un, mi trovo anche bene, con un prodotto, mmm, è troppo buonissimo, ma, buonissimo, poi, finalmente, cercavo glitter di tantissimo tempo, però, volevo, cioè, prendere, ehm, 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 prenderli a un prezzo buono, non troppo esagerato, perché, comunque, i glitter, cioè, sono glitter, e, mmm, alla profumeria, ne avevo visti alcuni della Collister, e costano tipo 14,90 euro, troppo per un glitter, eh, degli alene, ai loin, in glitter, da, mmm, invece, la bottega verde, costa, con lo sconto, 7 euro e qualcosa, e, mmm, io volevo spiegare ancora meno, veramente, perché i glitter, cioè, magari li volevo trovare su internet, da qualche parte, ma, non l'ho trovato granché, quindi, alla fine ho preso questi qui, gel, eyeliner, 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 glitter, con vitamina E, aiuto, e devo dire, che qua c'è scritto, da usare, o normalmente, o come top coat, io, comunque, ho preso questi qua, dorati, che per l'estate sono ottimi, e vi faccio vedere, un po' più piccolo, vedete? pennellino, così, piccolo, piccolo, non preleva tantissimo prodotto, però, e poi, ho preso, quegli viola, più che altro, questo qua, viola, non è tanto viola in sé, più che altro, un gel, trasparente, con, dentro, grifferini, viola, arancione, giallo, capito? non è proprio viola, viola, perché, mentre l'altro, quello oro, già lo vedo, che ha una base, un po' più dorata, questo qua, no, questo qua, proprio, proprio, solo glitter, viola, vedete? aiuto, cosa dire, quando li ho provati sulla mano, mi bruciava un po', io questi prodotti, buttega verde, mi sape proprio, non li devo comprare, però, ho pensato, vabbè, tanto, cioè, se lo metto sulla pelle, liscia, cioè, liscia, senza nessun prodotto sotto, va a contatto con la pelle, e, mi provo a bruciare, però, se lo metto, come, sicuramente farò, sopra dell'ombretto, sopra la matita, cioè, non mi provocherà niente, infatti, non mi provoca niente, e a contatto con la pelle, che mi provoca, questo bruciare, non so perché, anche altri prodotti, pega verde, me lo fanno, e, però, tanto io, cioè, non li uso così, sulla pelle, li metto sicuramente, su una matita colorata, sopra l'ombretto, che quelli che ho provati, sono stupendi, anche, qua, qua, ai lati, stupendissimi, bellissimi, ci danno proprio un tocco in più, e, li adoro, quindi, sono ora, io vi ho oro e viola, qua c'è scritto, 6 mesi, e, ah, poi volevo dirvi, di bottega verde, vi consiglio, di farvi la tessera, che, praticamente, si può fare, senza comprare niente, mi sembra, non si deve pagare niente, cioè, puoi farla normalmente, e, è, è molto conveniente, perché, ogni volta, cioè, ogni volta, tantissime volte, dopo che compri qualcosa, dai la tessera, e le dice, la gommetta, le dice, ah, è un sconto del 60% sul prezzo di destino, in, in prodotti che vuoi, allora, la prima volta, che, eh, andate lì, e fate la tessera, subito, avete degli sconti, su alcuni prodotti, a vostra scelta, credo, eh, poi, mh, vi mandano a casa, eh, eh, dei foglietti, con tantissimi sconti, o se no, via email, come ho fatto io, ho sbagliato, cioè, non vi scrivete, non vi scrivete, la newsletter, o neanche, a, mettete il vostro indirizzo email, nel, nel fogliettino, dove vi faranno compilare, i vostri dati, perché, se no, a casa non vi arrivano, queste offerte, cioè, io preferisco comprare la casa, e comprare, cioè, comprare al negozio, che comprare da internet, perché, non ho voglia di comprare da internet, comunque, cioè, comprare la dal negozio, è conveniente, va bene, mentre comprare da internet, mi sono arrivata, le offerte, anche, la prima volta, le spese di spendizioni gravi, questo, quell'altro, cioè, ma veramente, non mi interessa, preferisco comprare dal negozio, vi saluto, ciao! Ciao!